Il Comune di Pordenone, in esecuzione alle disposizioni testamentarie relative ai lasciti del defunto ingegnere Augusto Miore e del signor Carlo Brussa, assegna annualmente due borse di studio a favore di studenti universitari. Una delle due borse è destinata agli studenti iscritti al primo anno di un qualsiasi corso di laurea. L'altra, invece, è riservata a studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea dell'area scientifica fra ingegneria, fisica, chimica e matematica. Soddisfazione per l'iniziativa nelle parole dell'assessore comunale Flavia Rubino. Anche quest'anno abbiamo avuto il piacere di premiare due eccellenze pordenonesi, due ragazze provenienti dal liceo classico indirizzo scientifico e dal liceo scientifico Grigoletti, che sono già uscite con il massimo dei voti. Hanno scelto una l'indirizzo scientifico, matematica, a Padova, dopo aver avuto un grande successo anche in gare di fisica, di matematica a livello italiano. E l'altra, invece, è iscritta alla Scuola Superiore dell'Interprete e Traduttore di Trieste, scuola di eccellenza in Italia, dove è molto difficile entrare. Siamo molto soddisfatti. La borsa di studio quest'anno è un po' più importante rispetto agli anni precedenti e speriamo che continui anche negli anni prossimi.